La tana del frerito Ciao broderigno Li apriremo Poi dopo vi devo leggere una mail Molto molto particolare Che Giodi ancora non ha letto Grazie ufficio al vuoto Grazie Nicola Bombi Lasciati guidare Da una mano amica Guarda che può voler dire molto Vuol dire nel stesso Non aver paura di affidarti a qualcuno che ti vuole bene Tu vediamo cosa hai scritto Lasciati guidare da una mano amica Però nella giornata di ieri Ho ricevuto una comunicazione Dal buon Giuseppe Giuseppe Simone Che mi ha mandato una mail pensando che io fossi Baby Bunny È una mail molto forte Tra l'altro in realtà non sarebbe diretta a me Ma sarebbe diretta a Baby Però ho scritto a me e l'oggetto della mail è Dalla lettera di Giuseppe Simone a Baby Bunny Cioè un po' abbastanza biblica Sì molto biblica Ciao Baby Vabbè comunque inizia bene Dopo la clip di pochi secondi che trovi in allegato Nella triste casella di posta elettronica di Burrati Ho capito subito che Gesù ti ha inviato sulla terra Per tenere alto il metabolismo energetico di noi maschi Guardalo così Guardalo così la lista di scopo amici Si allunga sempre di più Premi qui E qua mi ha legato un video Tra l'altro un grande Baby Bunny nel capatoio in camera di Rubino Non capisco il nesso Appena dimagrisco Due punti Il 31 agosto 2022 Dopo avermi tolto 46,3 kg di grasso Se vuoi assaggiare l'uccello lecceso allungato Perché è privo di grasso Beh levami dal cazzo dalla tua lista Che ti ingravido Vedrai come rimarrai posseduta E tornando nel tuo paesello Mi lascerai pure il feedback tipo Amazon A te il sesso piace Punto Giuseppe Simone Però Allora No però un cazzo Volgarissimo Un po' troppo eh Nel senso Baby Bunny dovrebbe avere voce in capitolo Dovrebbe avercela Dovrebbe assolutamente avercela Baby Bunny Magari dopo la chiamiamo Dici che cosa pensi con l'email Che cazzo Ma che devo pensare Sì sicuramente un po' d'ansia Quello è poco ma sicuro Cioè penso se sia vista pure l'altra volta La mia faccia Sconvolta Particolarmente Non sapevo come reagire Cioè poi solitamente io so una che Sta sempre un attimo Come sviacco le cose Eccetera eccetera Lì per lì non sapevo proprio Come reagire Sono rimasta semplicemente Bloccata E basta Ma io Scusa Oggi c'è stata una lunga conversazione Tra Baby e Giuseppe Simone Ah proprio telefonica? Sì 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 Abbiamo parlato al telefono Ah Abbiamo Abbiamo parlato E Di cosa avete parlato? Se posso eh A questo punto Allora abbiamo parlato E Io ovviamente gli ho chiesto Il motivo per cui Era uscito in quel modo E Lui mi ha detto che la colpa è Solo tua Di burrati Di burrati Di burrati Sì esatto Perché ha detto che Praticamente Tu stai solo davanti al computer E non fai niente Con le ragazze Hai capito Burrati Non fai sesso Ok Ha detto che tu non consumi Che stai solo davanti al computer E di conseguenza Si è incazzato per questo E Io cercherò Se fossi vergine Sarei una merda quindi Secondo la sua Ideologia Penso di sì Penso di sì E io per tranquillizzarlo Va beh Gli ho detto che sicuramente Tu oltre a questo Fai anche altro nella vita E ovviamente Non è che lo fai davanti A una live Insomma Esatto E lui? E quindi si è tranquillizzato E gli ho detto Che potevo parlare con te E chiederti se volevi Fare di nuovo una live Insieme a lui Lui mi ha detto Che è molto contento Che non vede l'ora di farlo Ma come? Scusa Ve lo giuro Ma no aspetta Un'altra cosa che non ho letto Aspetta Un'altra cosa che non ho detto In realtà È che Giuseppe Simone Mi ha risposto su messaggi Perché io gli avevo scritto Ciao Giuseppe Sono Simone Rispondenza privata Ciao Giuseppe Sono Simone Ah ok Ciao Giuseppe Sono Grino Greenwood Gli ho scritto Per richiamarmi appena riesci Ciao Giuseppe Sono Grino Per richiamarmi appena riesci al volo Perché lì un attimo Gli fa Ma neanche se mi paghi Mi apro un canale tweak Senza il tuo aiuto Rimani nel tuo mondo Terrina Io rimango nel mio Digliagiodi Che sono molto fiero Sono fiero Anzi molto fiero Di avere il mio mondo Che andasse a zappare Addio Mi rifiuto di collaborare con te Chi fa da sé Fa per tre Nel tuo mondo Terrun Ma io Ma io non Infatti Bravo Bravo Non l'ho insultata Io ho detto che è incredibile Perché è tutto Cioè Fa dei ragionamenti Incredibili Cioè Li fa Al di fuori del normale Non ho detto niente di deprecabile Lo sono Lo sono Sì perché effettivamente È così È così Effettivamente C'è poco da dire È effettivamente È effettivamente così È tutto un paradosso Sono solo un pazzo Questo amore so che sparirà Ora non mi muovo Ma nemmeno stacco Canto il sole Faccio na 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 Ma non posso fare Poi le cose Sì quelle che dici Ma come possiamo fare